Nel video di oggi torniamo a parlare di diritto amministrativo e del resto il diritto amministrativo, lo abbiamo già detto in altri video, è materia centrale quando parliamo di concorsi presso la pubblica amministrazione indipendentemente da quale sia il nostro background, la nostra provenienza, la nostra laurea, i nostri titoli di studio se vogliamo entrare a lavorare nella pubblica amministrazione il diritto amministrativo c'è poco da fare, bisogna in qualche modo conoscerlo, è materia centrale adesso a parte poi insomma qualche concorso specifico o di natura tecnica che viene indetto ma in generale per il resto, ripeto, qualsiasi sia il nostro background di provenienza il diritto amministrativo diventa una materia con i quali doveri in qualche modo fare i conti del resto se noi prendiamo qualsiasi bando di concorso vediamo proprio come primo ma al limite come seconda materia da studiare elementi di diritto amministrativo non solo ma all'interno addirittura ulteriori specificità del diritto amministrativo tipo che ne so, trasparenza, accesso agli atti, contratti pubblici ebbene sono tutte parti del diritto amministrativo stesso fra queste per esempio anche proprio quella del rapporto di lavoro di pubblico impiego che è proprio quella che vedremo in questo video con la nostra solita provvedere lavagnetta andremo a vedere quelli che sono i riferimenti normativi del rapporto di pubblico impiego chiaramente lo faremo in ottica schematica, uno schema di sintesi per dare appunto una sorta di mappa di lavoro operativa poi ovviamente vi rimando per gli approfondimenti che certamente dovrete fare per prepararvi adeguatamente ai vostri strumenti di preparazione fra questi chiaramente io non posso che consigliarvi il videocorso di diritto amministrativo che ho preparato per formazione di diritto videocorso fatto su tutto il diritto amministrativo ma lo dico tutto intendo dire non soltanto la parte sostanziale ma anche quella processuale fatta in video in cui spiego appunto in maniera semplificata questa materia con anche 100 mappe concettuali incluse per una migliore schematizzazione immediata e quindi magari può essere un valido supporto magari io ti metto il link in descrizione per anche dargli un'occhiata ma adesso andiamo a vederci appunto indipendentemente da questo quali sono questi riferimenti normativi fondamentali nel rapporto di pubblico impiego ripeto materia argomento del diritto amministrativo molto spesso richiesto allora innanzitutto le fonti normative diciamo quelle fondamentali sono tre e sono la costituzione, la legge ordinaria e il contratto collettivo nazionale di lavoro ecco noi fondamentalmente quando parliamo di rapporto di pubblico impiego a monte di quello che è poi il singolo contratto che il dipendente pubblico va a stipulare ci sono queste tre fonti ovviamente diamo precedenza alla costituzione e qui io ho indicato anche riprendendo se vogliamo un pochettino quella che è la manualistica di settore troverete quasi sempre questo tipo di scomposizione di fonti perché proprio serve per riuscire a chiarirci in testa un pochettino da dove partire ebbene qui io ho indicato quali sono gli articoli della costituzione che fanno riferimento al rapporto di lavoro di pubblico impiego e quali sono? certamente l'articolo 28 che parla di responsabilità diretta del pubblico dipendente tutte le volte che la sua azione è posta in violazione della legge una responsabilità diretta che poi per il rapporto di immediissimazione organica si estende all'ente ma che è diretta del pubblico dipendente poi l'articolo 51 che parla di parità di genere nel senso che l'accesso alla pubblica amministrazione deve essere garantito sia agli uomini che alle donne evidentemente poi l'articolo 54 che richiama la disciplina e l'onore nello svolgimento della funzione del pubblico dipendente e poi gli articoli 97 e 98 gli articoli 97 e 98 quando parliamo di diritto amministrativo li troviamo sempre perché sono proprio quegli articoli fondamentali portatori di tanti principi nell'ambito di quella che è soprattutto l'organizzazione dei pubblici uffici ebbene l'articolo 97 stabilisce il fatto che gli uffici sono organizzati con una ripartizione di competenze dei funzionari e che l'accesso avviene per concorso l'articolo 98 con riferimento al rapporto di pubblico impiego invece è quello che parla di esclusività del rapporto da parte del pubblico dipendente anche con dei limiti di vincoli ad esempio per alcuni settori del pubblico a potersi candidare politicamente o far parte di partiti andiamo invece per adesso alla legge ordinaria che qui è poi il cuore proprio della normativa del pubblico dipendente perché la costituzione come quasi sempre fa dà norme di natura programmatica e poi chiaramente questi obiettivi devono essere raggiunti in particolar modo con le norme cosiddette operative quelle di legge ordinaria e anche quelle regolamentari ma in particolar modo in questo caso certamente quelle della legge ordinaria e fra queste la normativa regina è ovviamente il decreto legislativo 165 del 2001 ovvero il testo unico sul pubblico impiego detto anche Tupi che io qui ho messo in via parallela con il libro quinto del codice civile capo 1 titolo 2 che per farla chiara è la parte del codice civile dedicata al rapporto di lavoro nell'impresa privata ebbene è importante citarla e metterla in parallelo perché lo stesso Tupi dice se non erro all'articolo 2 che la normativa prevista dal codice civile per quel che riguarda il rapporto di lavoro nell'impresa si applica anche al rapporto di lavoro pubblico salvo quanto disposto dal decreto legislativo 165 del 2001 quindi il Tupi è normativa si dice speciale rispetto a quanto previsto nel codice civile stesso però è stata una grande conquista quella di ottenere questo ruolo paritetico con il rapporto di lavoro privato questo perché adesso senza farvela molto lunga il decreto legislativo 165 del 2001 va proprio a compiere tutto quel percorso che viene chiamato di privatizzazione del rapporto di lavoro di pubblico impiego perché fino all'inizio anni 90 il rapporto con la pubblica amministrazione non prevedeva contratti non prevedeva contrattazione collettiva si veniva assunti per nomina la competenza delle azioni giudiziarie era sempre del giudice amministrativo e invece poi c'è stata una prima privatizzazione che è partita nel 1993 poi un'altra nel 98 detta seconda privatizzazione sono tutte confluite poi in un testo unico che le ha raccolte nel decreto legislativo 165 del 2001 quindi normativa fondamentale fondamentale anche perché poi successivamente tutte le riforme che si sono avute altre non hanno fatto che intervenire sul testo unico come ad esempio qui vi cito vi metto un po' in scaletta le riforme più importanti quelle tra virgolette da ricordare poi questo non ne esclude delle altre certamente la riforma brunetta riforma del 2009 e ancora una volta vi do riferimenti normativi legge 15 del 2009 di natura propria programmatica e il decreto legislativo 150 2009 che è il decreto di attuazione la riforma brunetta che si è caratterizzata soprattutto per aver introdotto il misuratore di performance iniziano le riforme dove in qualche modo l'azione è incentrata sull'efficienza e la produttività della pubblica amministrazione anche per quel che riguarda la valutazione del dipendente pubblico ed è per questo che è stata una riforma che ha fatto molto discutere anche i pubblici dipendenti ma poi sul solco di questa riforma ce ne sono state altre successive molto importanti tra cui sicuramente la riforma Amadia da ricordare con la legge delega 124 del 2015 e poi i decreti di attuazione che sono due decreti legislativi il 74 del 2017 e il 75 del 2017 perdonatemi sempre se do questi numeri però individuare proprio qualificare la normativa in maniera esatta è utile perché poi nei quiz molto spesso sono chiesti e le domande appunto sono poste indicando direttamente riferimento normativo se le doveste indicare magari anche nei quiz a risposta aperta piuttosto che all'orale insomma è importante individuarle in maniera corretta la tecnica normativa è quasi sempre la stessa una legge delega generale che pone il programma pone gli obiettivi e poi i decreti di attuazione la riforma Amadia proponeva e ha proposto un restyling della pubblica amministrazione e ha anche però riformato quanto previsto la riforma Brunetta quindi per carità sempre incentrata anche sull'efficienza e la produttività della pubblica amministrazione però snellendo quello che era il procedimento di valutazione e di misurazione della performance ma non solo ha introdotto poi anche insomma ad esempio la determinazione di quello che è il fabbisogno triennale delle risorse degli uffici da determinare appunto in maniera triennale e non quella che era semplicemente una vecchia pianta organica dove però non si conoscevano esattamente le risorse necessarie e ancora per esempio un'accessibilità maggiormente garantita anche a chi aveva avuto rapporti di lavoro flessibile con la pubblica amministrazione aveva maturato questo tipo di esperienza altre competenze altre competenze attribuite in maniera ulteriore ai cosiddetti OIV cioè agli organi indipendenti di valutazione insomma un restyling della pubblica amministrazione che chiaramente io adesso vi butto un po' così e poi chiaramente vi rimanda allo studio specifico della normativa mi interessa però sottolineare come trattasi di sicuramente cuore centrale anche questo delle riforme da studiare e da conoscere appunto in tema di rapporto di pubblico impiego l'altra che vado a citare è la legge 56 del 2019 legge cosiddetta concretezza o anche legge buongiorno perché poi insomma queste leggi prendono i nomi anche dei ministri che le hanno proposte legge concretezza che in qualche modo da un lato voleva combattere la lotta all'assenteismo quindi con l'introduzione anche dei cosiddetti dati biometrici altra riforma che ha dato oggetto ovviamente a discussione e poi altra riforma che ha puntato sull'efficienza dei pubblici uffici anche qui però sempre badando soprattutto a quello che è il controllo infatti sono stati introdotti cosiddetti nuclei di concretezza team di esperti appunto per valutare l'efficienza dei pubblici uffici queste sono un pochettino le normative di legge ordinaria fondamentali da conoscere poi ce ne sono anche evidentemente delle altre ma queste sicuramente sono sicuramente certamente da conoscere e da studiare arriviamo alla terza fonte che regola appunto i contratti del rapporto di pubblico impiego e abbiamo i contratti collettivi nazionali di lavoro anche questo parlavamo prima della conquista dell'equiparazione del rapporto di pubblico impiego a quello privato è una delle conquiste che è stata proprio quella di prevedere anche la contrattazione collettiva nel pubblico quindi in questo caso con delle rappresentanze sindacali dei soggetti dei lavoratori pubblici che vanno appunto a negoziare con l'agenzia per le rappresentanze della pubblica amministrazione chiamata ARAN quindi l'ARAN da una parte e le rappresentanze sindacali dall'altra o va detto che i contratti collettivi nazionali funzionano per comparti prima della riforma del 2009 i comparti erano addirittura 12 i comparti sono una sorta di sistematizzazione con diciamo unione di situazioni omogenee che vengono appunto unite nell'ambito di una contrattazione ebbene da 12 sono passate a diventare con la riforma Brunetta a 4 comparti ma l'operatività di questi 4 comparti è iniziata soltanto dal 2016 successivamente poi anche alla riforma Madia quali sono questi comparti il comparto funzioni centrali il comparto funzioni locali il comparto istruzione ricerca e il comparto sanità ecco quindi queste sono un pochettino in linea generale e schematica le fonti fondamentali del rapporto di lavoro di pubblico impiego questa dovrebbe essere la mappa di lavoro da cui partire per poi fare tutti gli approfondimenti necessari spero che questo video ti possa essere stato utile magari te lo puoi rivedere tutte le volte che stai andando a studiare il rapporto di lavoro di pubblico impiego nei tuoi strumenti di preparazione ti ricordo di iscriverti al canale perché insomma di questi schemi ne faremo altri sui diversi sui diversi argomenti del diritto amministrativo ti ricordo il videocorso magari vedi a dare un'occhiata può essere un utile strumento per una preparazione rapida ed immediata completamente in digitale molto spesso compriamo i libri i libri poi sono fondamentali ed importanti ma molto spesso rimangono anche sul comodino magari questo può essere uno strumento utile da utilizzare con da smartphone tablet o pc vattelo a vedere se sei interessato ci vediamo in ogni caso al prossimo video